Nuova udienza questa mattina per il processo a Budapest su Ilaria Salis, il primo con l'attivista monzese agli arresti domiciliari e non più in carcere. Arrivata con un taxi di prima mattina assieme al padre, la docente 39enne è entrata velocemente in tribunale accompagnata da alcuni amici presenti tra cui il fumettista Zero Calcare. In aula la docente si presenta per la prima volta anche senza catene ma con la cavigliera elettronica. Ha ringraziato per il sostegno ricevuto rivelando di aver dormito poco la notte precedente senza aggiungere ulteriori dichiarazioni. La concessione dei domiciliari, ha affermato l'ambasciatore Iacoangeli, rasserena la situazione e le consente di affrontare al meglio il processo. Come ambasciata appoggeremo la richiesta di domiciliari in Italia. All'udienza sono stati interrogati due testimoni e una delle vittime dell'aggressione di cui Ilaria Salis è accusata ma quest'ultima non ha riconosciuto la 39enne. Indossavano cappelli e maschere, non potrei riconoscere nessuno, ha affermato. Momenti di tensione in aula però quando il giudice Josef Zoss rivela l'indirizzo dove la Salis sta scontando i domiciliari. Proteste immediate dal padre che si è rivolto all'ambasciatore Iacoangeli per chiedere di adottare tutte le misure necessarie per evitare ritorsioni. C'è un'enorme tutela per la persona aggredita che è ungherese e poi viene rivelato il domicilio di Ilaria, un sistema inaccettabile, non mi pare sia un processo giusto, aggiungerà poi. L'ambasciata italiana ha presentato una nota di protesta chiedendo l'adozione di misure che garantiscano la sicurezza di Ilaria Salis. L'indirizzo non dovrebbe essere rivelato, anzi protetto e non va inserito nel verbale, ha aggiunto l'avvocato della difesa, Giorgi Magiar. Prossima udienza prevista il 6 settembre.